ciao fragoline nuovo video ho deciso di mostrarvi i miei prodotti della just dato che nel video che avevo fatto credo un anno fa a molte persone è piaciuto quel video dove ho mostrato i miei prodotti della just e dove ho parlato ovviamente della just questa volta volevo farlo di nuovo però questa volta vi mostro proprio tutti tutti i prodotti che ho in casa e vi spiego cioè no in teoria non è che vi spiego perché ora che vi spiego tutto quello che cioè tutte le cose come funzionano ci vuole l'eternità di questo video per cui direi che vi faccio vedere solo quelli che ho e se mi viene in mente il prodotto come funziona ve lo dico velocemente perché certi prodotti non mi ricordo neanche come funzionano perché la maggior parte li usa di più mi ama che io io uso solo quelli che servono a me in pratica e in più volevo dirvi anche che se vedete che io mi sposto in ogni stanza è perché i prodotti ce li ho dappertutto ad esempio nel bagno di sotto in cameretta dei miei cioè in cameretta dei miei fratelli in cameretta di mia amma eccetera no allora dato che dopo diventa un casino se li prendo tutti e poi non so più neanche dove dove vanno allora ho detto perché non fare questa cosa qua almeno viene un po diciamo un po diverso dal solito per cui scusate se mi sposto in tanti posti prima di tutto di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale di attivare la campanellina così non perdete neanche un solo video in cui io pubblico mettere un like a questo video seguirmi su instagram se volete e ovviamente un commentino qua sotto se anche voi usate questa marca della just che praticamente è svizzera o se non la usate oppure come vi siete trovati io mi trovo veramente bene sono prodotti naturali sono ottimi e li straconsiglio 100 volte usando queste cose questi prodotti praticamente sto sempre molto molto meglio ad esempio che quando io ho il raffreddore o la tosse basta che mi metto per farvi capire questa qua che è la crema timo dove dovete massaggiarla sul petto e sul dorso o sulla pianta dei piedi al mattino e alla sera rinfresca ed asciuga e assicura un immediato benessere praticamente praticamente questa dona la pelle una sensazione stimolante allo stesso tempo e un sollievo per cui grazie a questa se non mi sbaglio questa qua io con questa qua è la migliore crema perché mi aiuta veramente tanto anche quando sto male questa è già la seconda volta che la uso se vedete è quasi finita la metà fino a qua ha un odore ottimo è buonissimo giuro che l'adoro è la mia preferita perché mi aiuta veramente quando la tosse quando raffreddore io la uso tantissimo quando sto male questa è la migliore poi andiamo veloce perché non riesco se no parlo troppo poi ho questa qua per il crema piedi questa sarebbe per i piedi ed è fatta così non vi spiego bene dettagli eccetera è fatta così anche questa se vedete l'ho quasi finita praticamente ce l'ho fino a qui queste sono le mie tre creme che si sto mostrando le mie preferite questa è ottima per i piedi questa qua è crema piedi si chiama così poi vi faccio vedere anche questa che la tri tri questa qui è consigliata per pelli rubide praticamente va bene per le irritazioni cutanee dovuto al sole o al vento io quando vado al mare e metto questa mi trovo veramente bene perché mi aiuta veramente per cui la tri tri la tri tri non riesco mai a dire teatri credo che si pronuncia così ma tanto so che sbaglierò la pronuncia per cui lasciamo perdere andiamo avanti con gli altri prodotti che adesso vi farò vedere nell'altra stanza ok invece in bagno che praticamente quello di sotto mi ama usa l'essenza bagno della timo questo qua spero che si vedano i prodotti questo lo mettete nella vasca e dovete aspettare cioè dovete immergersi per 15 20 minuti dovete stare lì praticamente serve per circa 15 bagni e dovete usarlo solo 5 10 ml ve lo dico velocemente così poi c'è la crema timo questa qua piccolina 30 ml che quello che avevo detto poi a questo qui che lo shampoo tre 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 credo che lo dico quello dire ho sbagliato di sicuro comunque questo qua alla manuca e manca poi balsamo al mirtillo questo qua vado veloce perché sono davanti diventa troppo sto video questo è nuovo il bagno rilassante estratto di valeriana e biancospino questo qua un profumo ottimo anche questo 15 20 minuti e bla 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 questo per i piedi praticamente il bagno marmorto sali marmorto questo qui 500 grammi io lo usavo per i piedi adesso è praticamente finito non so perché mia mamma ha un profumo da dio non so perché mia mattina la stato la volta però credo che deve comprare e comprare perché ovviamente finito poi l'olio doccia questo qua che come vedete questo 200 ml quasi finito questi sono i prodotti cosa mi amo poi sempre lo shampoo quello che vi ho fatto vedere prima ne ha due due pieni e poi ne ha due dello spray ambienti per odore che praticamente il limone cedro eccetera questo qua è di 200 ml queste ne ha 21 questo è quasi finito l'altro è praticamente nuovo solo che ce l'ha dentro l'armadetto e non riesco a prenderlo per cui ve ne farò vedere ve ne faccio vedere solo uno queste sono le cose per il bagno che usa mia mamma e ogni tanto lo uso anch'io però dipende adesso vi farò vedere gli altri prodotti che dovrei averli in cameretta ok invece in cameretta abbiamo un casino di prodotti scusate ma c'ho la finestra aperta se no voi non vedete diciamo la luce vi faccio vedere velocemente allora abbiamo la crema lavanda questa qua poi la crema attiva sono troppi prodotti devo andare veloce poi ci sono questi qua che sono carini volevo farvele vedere infatti così che ho scritto just infatti mia mamma mette anche i prodotti poi questo per le labbra il balsamo che è anche buonissimo alla calendula è fatto così è praticamente molto buono anche come odore mamma mia è buonissimo questo qua poi c'è la salvia di essenza questa praticamente l'ha quasi finito altro barattolino della just poi c'è la lavanda essenza un altro c'è praticamente un bel po' di profumi si di profumi di prodotti l'unica cosa che non mette a fuoco e non si vede bene e poi il basilico sempre assenza questo qua questo ne uso un casino poi c'è il latte solare a bassa protezione questo che dovrebbe essere c'è il 6 poi dopo sole gel dopo sole c'è la consolida la consolida la crema gel consolida poi questi qua per la però questo è quasi finito praticamente e per le insetti lo spray degli insetti poi c'è questa resistente all'acqua è la 15 praticamente è andato via anche il non mi viene il nome la scritta poi questo se non sbaglio anche questo se non mi sbaglio perché credo che è dentro ha un altro balsamo della just poi la crema la lavanda c'è anche la crema timo però questa qua è piena e questa invece è la menta questo qua poi c'è anche un regalino ovviamente voi non lo vedete è nel sacchettino ed è questo tipo portacchiavi molto molto bello sembra della just mi sembra che ve lo fate vedere tutti questi sono i prodotti che ovviamente lei ha che usa anche per i miei fratelli vediamo se ho altri prodotti ok qua c'è più luce per cui vi faccio vedere quei prodotti allora invece quelli che ha in camera sono la crema sempre quella che vi avevo fatto vedere questa qua che non so più quale poi il sapone mani alla menta limone mandarino e uva questo qua poi sempre il balsamo al mirtillo e per finire vi faccio vedere praticamente gli altri prodotti che ha però non sono creme ad esempio si presentano così in questa scatola sempre della just e c'è a questa borsetta fatta così ovviamente questi qua sono quelli vecchi per cui non credo che li trovate forse sì non lo so dovete solo chiedere alla vostra consulente ovviamente la borsa è così spaziosa che mi metteranno questo è carina perché è fatta praticamente così della just questa qui è quella che mi ama da un bel po' di tempo però quasi quasi gli dirò che la prenderò io così la sfrutterò per andare in viaggio che secondo me è anche comodo per mettere dentro le cose invece questo sacchettino sempre just c'è dentro questo questo mino troppo carino fatto così praticamente c'è il manuale adesso non so come funziona perché lo usa lei se non sbaglio ah ok questo è un acchiappo d'ori della just voi lo aprite ci mettete dentro col prodotto e acchiappa gli odori adesso non so praticamente come funziona ovviamente c'è scritto qua ma inutile farvelo non ve lo spiego se no ci mettiamo l'eternità questo è molto carino poi dentro credo che si sempre nel sacchettino ha questa borsa io non so no questa è proprio chiusa per cui non ve la posso prevedere è una borsa della just non lo so glielo devo chiedere perché è carina e così così è spaziosa anche per usarla è rossa e blu devo vedere come mai ce l'ha e perché è ancora impacchettata e non la sta usando e poi per finire queste saponette per il viso e il cappellino blu praticamente così questi sono tutti i prodotti che lei ha e in più questi oggetti queste cose che sinceramente l'ho visti adesso e allora volevo farvele vedere questi sono i prodotti che praticamente a mia amma e che usiamo e che uso ogni tanto anch'io però è un'ottima marca i prodotti sono ottimi perché aiutano molto sono naturali al 100% per cui ve lo consiglio detto questo credo che il video è durato anche fin troppo vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanellina per non perdere neanche un solo video e seguirmi su instagram lasciarmi un like e un commentino qua sotto noi ci vediamo al prossimo video e spero che questi prodotti vi siano piaciuti fatemi sapere quali prodotti vi sono piaciuti noi ci vediamo al prossimo video ciao